Siamo nel contesto della mostra dedicata ad Amedeo Modigliani, qua a Livorno, nel museo della sua città. Quest'oggi si affianca all'opera di Modigliani, si affrancano i coralli, perché è un abbinamento quasi dovuto, anche perché il corallo per Livorno ha sempre voluto dire molta storia, però adesso sentiremo la voce un pochino degli addetti ai lavori. Parliamo di corallo, parliamo di arte, parliamo di cultura. Incontriamo perciò un addetto ai lavori, qua al meglio della signora Talarico, che tra l'altro si è occupata anche della mostra di quest'oggi. Ho detto prima che il corallo per Livorno ha voluto dire tantissimo nei tempi passati, me lo conferma? Certo, noi abbiamo avuto 400 anni di storia del corallo, l'avevo dimostrato anche quando dal 2006-2009 avevo aperto il museo del corallo Fortezza Vecchia, poi dopo l'ho chiuso e abbiamo fatto già altre mostre anche a Vico Pisano e a Napoli, proprio perché tutta questa raccolta dovuta sia alla ricerca di Michele e Clara Montanelli, Clara Enrico e Michele Montanelli, che avevano scritto un libro facendo una ricerca d'archivio molto dettagliata su tutta la storia del corallo, dopodiché anche sulla raccolta dei coralli che avevano nella collezione e poi di altri privati che tenevano, eccetera. Questi 400 anni di storia rappresentavano un'economia fortissima a Livorno, dove venivano impiegate, si presume che nel 1700 e nell'800 ci fossero più di 5.000 donne che lavorassero. Famose corallaie. Famose corallaie. Avevamo circa dalle 15 alle 20 aziende che lavoravano il corallo e era un'economia estremamente fiorente. Questa mostra vuole collegare la Livornesità di Modigliani che ha dipinto queste donne. Appunto, perché questa scelta di unire il corallo a Modigliani, anche se lo vediamo che c'è molto corallo in Modigliani. È stata una richiesta specifica proprio dell'assessore Lenzi che ringrazio, perché in effetti Modigliani era di famiglia ebraica, sefardita, e sicuramente ha conosciuto tutta la lavorazione del corallo. E l'ha anche dipinto. Ci sono già, noi qui abbiamo rappresentato quattro quadri, ma ce ne sono anche degli altri, dove lui ha dipinto queste donne con i coralli, dei nudi o questa donna che abbiamo qui intorno. Il corallo perché? Perché è una dimostrazione della Livornesità di Modigliani. Abbiamo sempre pensato che Modigliani vivesse a Parigi e fosse parigino, ma viene da una famiglia livornese, profondamente livornese. Dunque, la riscoperta attraverso questa meravigliosa mostra dei quadri di Modigliani e di questa mostra del corallo legato all'epoca dei Modigliani era per fare un link, un incrocio fra quello che era il vissuto di Modigliani da giovane, quello che poteva vedere, quella che era l'economia livornese e il fatto che lui fosse molto attaccato a questa città, nonostante fosse andato a Parigi. Ci siamo spostati, perché qua ci sono diverse bacheche per illustrare la bellezza, la preziosità, la rotondità del corallo, presso un'altra bacheca, dove ci sono delle cose bellissime che poi vedremo dopo. Per il momento volevo sapere, io vedo anche questa cosa che ha al collo la signora Talarico, che è da urlo. Beh, questo è il mio gioiello personale che è stato creato da Stefano Alinari a Firenze, tanti anni che ce l'ho, e è considerato il benvenuto Cellini di Firenze, addirittura un suo gioiello esposto in Palazzo Pitti, per cui è una cosa mia personale. Ma certo, però sta benissimo indossata oggi in questo contesto. Allora, dunque, ritorniamo. Modigliani, il corallo, la livornesità di Modigliani, che si ritrova appunto anche nelle sue opere, che spesso queste donne, da questi colli lunghissimi, da questa espressione così particolare, indossavano queste collane di corallo. Però, il corallo oggi, che significato ha? Adesso è sempre più difficile trovare il corallo, è sempre più difficile lavorarlo, è un luogo comune o è vero? No, non è così. Anzi, il corallo si trova a un prezzo molto alto. Cioè, il corallo si trova qui in Sardegna, in Corsica, grazie al cielo nella nostra costa è protetto, per cui non si può raccogliere lungo la nostra costa, però c'è. E tant'è vero che i diving center portano i subacqui a fotografare il corallo, per cui è diventata un'economia anche quella della foto del corallo, come si vede nei video che abbiamo esposto qui nell'altra sala, dove si vede appunto la ripopolazione. Anzi, devo dirle che il corallo livornese è il più prestigioso al mondo, tant'è vero che è il più studiato dall'Università di Pisa, dall'Università di Biologia di Pisa, e c'è anche un brevetto di alcune piastrelle per vedere il ripopolamento e come si ripopolano i coralli. Un corallo rosso, quello di Livorno. Un corallo rosso, mediterraneo, e fra i più compatti del mondo. Tant'è vero che il nostro è veramente uno dei coralli più prestigiosi al mondo, come qualità. Non lo possiamo raccogliere, per cui viene poi lavorato nel contesto, non so, di Torre del Greco, eccetera, che le fabbriche oramai si sono concentrate su Torre del Greco, i coralli che vengono sia dall'Asia che dalla Corsica, da altri corallai. Però ancora viene venduto, soprattutto in Cina. Hanno trovato un grandissimo mercato di Cina, perché è molto caro. È caro, purtroppo sì. E dando un consiglio al pubblico, alle persone che ci seguono, alle signore specialmente, che sono amanti del corallo, come scegliere un gioiello di corallo? Ma soprattutto dalle persone specializzate. Io dico sempre che la cosa migliore sono i negozi storici, perché il negozio storico ha un'esperienza superiore a queste che sono catene, che per carità hanno un loro lavoro, ma la vendita, diciamo... L'esperienza è diversa. È più di stampo distributivo, di firma, diciamo. Mentre il corallo, qui nel corallo non c'è firma che tenga. Deve avere la qualità. E così a un occhio inesperto, ad esempio, il colore del corallo è simbolo anche di preziosità, di qualità, ad esempio, fra un corallo rosso, un corallo arancio. Allora, i coralli sono generalmente il rosso mediterraneo, più o meno scuro, poi abbiamo i coralli asiatici, che sono generalmente o color salmone, o mori, perché sono molto molto scuri, o addirittura molto molto chiari. Qui, per esempio, abbiamo un'esperienza di coralli pelle d'angelo, una collana pelle d'angelo del 1920, dell'epoca dei Modigliani. Tutti questi qui sono coralli giapponesi, escluso questi che sono coralli di sciacca, ma il corallo di sciacca è un corallo fossile, non è un corallo a ramo. Allora, spieghiamo un attimino. Un attimino. Sciacca, anche sciacca è famosa per i coralli, è famosa anche perché ha dei rami abbastanza... Non ha ramo. Ecco. Allora, ci spieghi la differenza fra il corallo di sciacca, ad esempio, e il normale corallo mediterraneo. Allora, mentre il corallo normale mediterraneo è quello che si raccoglie lungo la costa, è formato da rame che fioriscono, eccetera. Il corallo di sciacca è un corallo che hanno scoperto alla fine del 1800, perché a tre metri sotto il livello del mare hanno trovato una cava di corallo fossile, cioè c'era per effetto forse dei vulcani, si erano sovrapposti uno con l'altro e era a forma di cava, tant'è vero che lo andavano a prendere con la sega, lo tagliavano a quadratoni, diciamo, lo prendevano. Addirittura, che differenza? Perciò non sono rami. Non sono dei coralli prestigiosi, quelli di sciacca, sono dei coralli fossili, si chiamano proprio corallo fossile. Corallo fossile che ha un colore un po' opaco, tant'è vero anche, siccome gli è venuta a mancare quella colorazione rossa, per cui tende ad andare sull'arancio, ma prevalentemente si può lucidare quando vuole, ma la lucidatura più di tanto non viene, non diventa mai come il corallo rosso lucidato e splendido. E la faccettatura, che è la cosa più prestigiosa del corallo, è quella che rende proprio come il diamante, come un diamante grezzo e un diamante faccettato. La stessa cosa. Diciamo che il corallo di sciacca forse è un pochino più raggiungibile a livello economico. Sì, però è anche molto poco vendibile. Alla fine dell'Ottocento trovavano le parti più belle e per cui è stato lavorato parecchio. Adesso si trovano, guardi, delle cose con la torba, insomma diventi brutto, insomma non è bello il corallo di sciacca. Ora non è nemmeno tanto commerciabile. Perciò preferiamo il rosso. Ci sono delle madrepole che ho visto che confondono con il corallo di sciacca, ma sono madrepole, sono altre cose. Non facciamo confusione. Bene, grazie signora Talarico, alla prossima. Venite tutti a vedere il museo, è gratis, potete venire quando volete, dalle 15 alle 19 tutti i giorni, escluso il lunedì. Per cui è ingresso gratuito e mi fa piacere che tutta la popolazione di Vornese possa venire. È chiaro che insieme a questo corallo, se uno vuole, venga a vedere anche la mostra del meraviglioso Modigliani, che è meravigliosa. Mi sembra doveroso. Grazie Maria Teresa, buon proseguimento. Bene, e vediamo inquadrati nella bacheca dei pezzi meravigliosi, lavorati in maniera stupefacente, abbiamo detto di corallo giapponese, di corallo asiatico per l'esattezza, e poi la collana che stiamo inquadrando adesso, che è di Pelle d'Angelo, è firmata anni 20. Ancora in Pelle d'Angelo, due gocce bellissime, siamo sempre nell'arte anni 20, infatti se non erro fa proprio pandan con la collana. ed ecco un'immagine d'epoca, le corallaie, si vede sullo sfondo la via grande, questo si suppone che sia la piazza grande, vedete il tipico abbigliamento dei primi del Novecento. Come dicevamo, Modigliani non disdegnava di abbellire le sue figure femminili, spesso nude, solo con un filo di corallo al collo. Corallo rosso, corallo livornese, corallo, diciamo, nostrano, perché siamo qua a Livorno, come dicevamo prima, che è di una qualità decisamente superiore, infatti si può notare anche la lavorazione molto raffinata, che permette questo tipo di corallo, essendo particolarmente, che si presta particolarmente ad essere anche sfaccettato. E come per incanto, e come per incanto, una corallaia si è materializzata, l'abbiamo vista in foto, e in questo momento si è materializzata. Come ci si sente ad essere in questo ambiente così fuori tempo? Benissimo. A casa mia. Bene. Bene, questo corallo, immagino che sia un corallo livornese, un corallo... Certo, certo. Mediterraneo. Non troppo rosso, ma proprio del Mediterraneo. Mediterraneo, perfetto. E la lavorazione, immagino che sia stata... Fatta qui a Villa Maria. Villa Maria. Ringraziamo la corallaia nelle vesti di... Daniela Bartolami, che fa parte anche del gruppo della Livornina, l'abbiamo vista diverse volte, anche mia ospite in trasmissione. Bene, grazie Daniela. Ciao. Ma quasi quasi approfitto della corallaia per chiudere questo servizio. Una corallaia in carne ed ossa, come vedete con l'abbigliamento d'epoca, guardate un po' che meraviglia. Il cellulare non lo facciamo vedere, no? Bene, grazie a tutti di averci seguito. Abbiamo anche un po' di corallo al collo. Ci mancherebbe, vero? Certo. Anche come si dice alla Livornese? Un pochino sta dicendo, un po'ino... Un po'ino, vero. Questo proprio. Quello, insomma, solvoliamo, solvoliamo. Bene, grazie alla nostra corallaia e come sempre al prossimo speciale. Grazie. Grazie.